Amici un saluto a tutti, siamo rientrati proprio ora da un'uscita big game impostata per la cattura degli alletterati che nel momento sembrava esserci qualche diciamo condizioni favorevoli dopo la bellissima cattura di giorni fa oggi siamo di nuovo in pesca, canna estese, segna ben due volte sotto qualche branchetto però purtroppo la canna non parte, abbiamo pescato in parte diciamo bene però purtroppo a volte la mancanza di corrente implica che la pasturazione vada a buon fine questo è stato forse il fattore che ci ha penalizzato un po' in oggi nonostante tutto bellissima giornata con temperature prossime allo zero la mattina ma dalle 10 in poi veramente stile addirittura in maglietta ecco amici a questo punto colgo l'occasione per ricordarvi qualora qualcuno non mi conoscesse che sono solito fare dei riassunti della giornata di pesca appena trascorsa ecco questo proprio per far vedere più che altro per commentare quasi in diretta come è andata la giornata quindi è importantissimo a questo punto l'iscrizione al canale e attivare la campanellina perché la sera quando tornerò vedrete la campanellina che vi si attiva e potrete seguire le nostre pescate in diretta grazie 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 grazie